Il Dio Capazio trova Buzzo, si butta dentro Busco e va a realizzare, ancora di Dio, si alza dai due punti, realizzato per Jairovic e poi è Di Iapp che da sotto va a segno, Pestinese, palla sotto per Tomic, gran canestro di Iapp, il tiro è il gran canestro di Iapp, fino a che si riavvicina, ma la riga, il tiro da tre la mette nell'angolo per Tomic, Poi per Lalla che riceve Di Iapp, ancora Buzzo stavolta trova la bocca di Dio, stava per ci volare il no look per Buzzo, la palla poi per Jairov, il tiro e il canestro, linea dei tre punti, non va a segno, Labovic e il canestro con Tomic e poi per Buzzo poi Ginevra la mette dall'arco, Simone Ginevra intanto di Dio, il tiro e il canestro di Leonardo, il prende, Gatta appena un metro, Tantaglia batte l'avversario sul tempo e va ad appoggiare a canestro, Iapp, il tiro e il canestro, Manu, ancora Gatta, si alza dai tre punti, Manu, e arriva la tira, Iapp che poi serve Tartaglia, che è Pestinese, Ginevra, la palla sotto, gran canestro, Tegosenza, passaggio lungo, è ancora Tomic, ancora Cersosimo, cerca lo spazio, Ginevra, la palla sotto per Alberini, si alza dai due punti e trova il primo artico. La palla subito viene riconquistata dalla basket school che va a segno, Ginevra per Rende e poi il tiro e la trifla, la seconda azione dell'attacco della formazione di casa, Gatta, il tiro è ancora una trifla. Dall'altra parte azione di avvicinamento al canestro e la consegnata per Leonardo Di Dio che si alza dai tre punti, non trova il canestro, il ribalzo di Gatta, la palla poi per Ginevra, dentro per il numero 9, mazione di casa, Pestinese, il tiro di Gatta da Dalla di Taglia, Lapovic, balla sotto per Bulzo, c'era di avvicinamento, cambia, Lapovic, Puzzo, poi riceve da Di Dio il tiro e il canestro, 21, anzi 19, a Trede, non arriva la tripla, riparte Busco di Gran Carriera e la scoppata di Pestinese. Di Dio, la pinta, si alza dai due punti e realizza Gatta, Taglia, lo scambio con Busco, cerca lo spazio Busco, si perde, poi serve Bulzo, l'angolo sotto per Tartaglia, cerca spazio Tartaglia e va a segno, Gran Gatta che cerca lo spazio e trova la tripla, la quarta, il primo quarto, è un punteggio altissimo, 32 e 24, all'altra parte Pestinese, la bomba, vi sceglie, ancora Pestinese, la bomba, 38 a 24, palla per Markovic, poi si sceglie, cerca lo spazio e va a realizzare, 40 a 24. dentro e c'è la schiacciata di arresto e tiro in transizione, il tiro di Lapovic, Pestinese, metto, cerca spazio, trova Ginevra che non sbaglia, poi serve Busco che va a segno, e arriva l'inchiodata di Iaiaf, Pestinese, prova la tripla e la mette per Pestinese. Grazie. 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 Grazie.